Buongiorno a Chiedere di Manosolo, Chiedere di Medicina per l'anima. Oggi vi vorrei raccomandare questo libro, Pensieri notturni in ordine sparso. Su tutte le storie che vi racconto ogni tanto, che mi piacciono, mi dico tutti che mi piacciono le mie storie, beh, qui ci sono raccolte un bel po' di storie, poi ci sarà il prossimo, Pensieri notturni in ordine sparso numero 2, che spero di farlo entro qualche mese, così è pronto, devo solo sistemarlo. Questo è 8 euro, 620 pagine, lo trovate qui all'orchideria oppure su Amazon. Oggi parliamo delle regole delle orchidee, perché ci sono delle regole, ci sono tante regole, e come ogni regola ha tante eccezioni, no? Per esempio una delle regole è, meno gli fate meglio è, ed è vero. Quando ho parlato con dei appassionati di orchidee, ma quelli bravi, che gli dite cosa gli fai, vi dirà tutti niente, è così, è vero, è proprio così. Un'altra delle regole è molto, cioè, non state niente sempre a soffocarle, meno gli fate meglio è. Un'altra delle regole è famosa quella delle tre P e delle tre T. Le tre P sono pazienza, 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 e le tre T tanta, 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 perché l'orchidee ci vuole pazienza. C'è un grande coltivatore di Roma, uno dei più bravi e appassionati di orchidee italiani, un sacco di orchidee, Adelindo Giuliani, che lui ha scritto una cosa bellissima. A Roma c'è un altro clima che è qui a Varese. Lui ha scritto che al mese di marzo ci sono certe orchidee che vogliono uscire dalla serra a tutti i costi, anche camminando sulle radici. Ah, no, ecco, no, questa è un'altra cosa che ha dato lui. Sulla pazienza, lui diceva che con l'orchidee ci vuole pazienza, se vuoi tutto e subito puoi seminare fagioli. Ah, quell'altra è perché, ecco, c'è la testa che, parlo di Adelindo Giuliani, mi vengono in mente tante cose, vabbè. Ah, un'altra cosa che è venuta in mente, prima facevo tanti corsi, adesso li passiamo su YouTube così, ma prima li facevo tanti corsi, c'erano certi corsi che c'erano catatazette, che c'erano di persone. E quando facevo i corsi, una cosa curiosa, quando dicevo, guardate che l'orchidee, per un appassionato, gli danno una gioia, che se lo chi è appassionato, l'orchidee capisce, conosce questa gioia, sa cosa voglio dire. E vedevo tanti testi che facevano, sì, sì, sì. Li vedevo proprio tantissimi, il 90% che muovono la testa, facevano, sì, è vero, è vero, perché basta che vengano fuori, ma non è necessario che sia un fiore, basta una foglia, una nuova vegetazione, una radice, che veramente mi dà la gioia, che è davvero una medicina per l'anima. Le regole delle orchidee, una regola importante è quella delle bagnature, che anche lì ci sono tante eccezioni, quando è leggera si bagna, quando è leggera non si bagna, quando è sicuro non si bagna, perché la maggior parte delle orchidee che muore in casa, muore per troppa acqua, e se imparate a bagnarle, avete già risolto la maggior parte dei problemi, perché la maggior parte dei problemi appunto viene fuori da troppa acqua, che poi ci sono radici, e poi viene fuori tanti problemi sulla pianta. Vabbè dai, per oggi va bene così, domani. Grazie.